I malviventi hanno agito in due distinti siti, nell'Aretino e uno nel Fiorentino, figli Nevaldarno. In questo momento sono in corso le indagini per capire se si tratti della stessa banda. A Monte San Savino è stato fatto saltare in aria il bancomat della banca Centro Toscana e Umbria, portando via circa 8.000 euro. A quell'ora lì, qua giù c'era un sacco di gente, i riservi, i piazzali lungo la strada. Un rumore forte. In Valdarno invece sono stati presi di mira due bancomat che si trovano in entrambi i casi presso i due supermercati Coop. Per quello di San Giovanni Valdarno il bottino si aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. Subito dopo il colpo è scattato l'inseguimento della banda da parte dei carabinieri e mentre stavano percorrendo via Poggilupi, l'auto dei militari si è ribaltata. I due carabinieri, due uomini di 21 e 54 anni, sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale delle Scott di Siena in codice giallo. Sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. In questo momento sono in corso indagini e approfondimenti da parte dei carabinieri che stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videocontrollo per capire se i colpi siano da attribuire alla stessa banda.